Dal 2006 la ditta Baldoni SRL di Marano sul Panaro mette in campo la propria esperienza in molteplici servizi, tra i quali taglio laser di tubi e profilati con 4 impianti, taglio e piegatura lamiere, saldatura robotizzata con 3 impianti, saldatura manuale con 10 postazioni, lavorazione meccanica e 5 assi. Il tutto supportato da un ufficio tecnico con progettazione CAD CAM 3D, lavorazioni di precisione per grandi risultati, tecnologia nell'acciaio, qualità nel lavoro.